Che sia Marco Sambugaro sia Nicola Brienza faranno ancora parte della nostra società. Conferenza stampa con molti argomenti quella che si è tenuta al palacarrara. Oltre al lancio della campagna abbonamenti è stata l'occasione per la conferma del direttore sportivo Marco Sambugaro ma anche e soprattutto del rinnovo di due anni per coach Nicola Brienza ma anche quella di due tasselli fondamentali della promozione in Serie A. Oggi ho confermato Gianluca Della Rosa e la firma di Carl Whittle. Entrambi hanno fatto un annuale, sono molto soddisfatto soprattutto di Nicola Brienza ma ovviamente anche dei ragazzi ma l'idea era quella di conservare, di mantenere quello che era il nucleo della squadra, del gruppo degli italiani di questi ultimi due anni che così bene ha fatto e quindi personalmente sono molto contento di queste firme. Ringrazio il club per la fiducia che mi è stata concessa ancora e sono estremamente contento di continuare il percorso che abbiamo iniziato due anni fa. Chiaro che adesso ci saranno nuove avventure, nuove situazioni da dover gestire, ovviamente riferisco alla Serie A1 però ecco c'è la volontà da parte mia, da parte del club di portare avanti quel percorso che abbiamo iniziato e cercheremo di adattarci alle difficoltà che ci saranno inevitabilmente nel futuro. E c'è la volontà anche di provare ad allungare il contratto anche ad altri ragazzi italiani? Esattamente, come dicevo l'idea è quella di confermare tutto il gruppo italiani, sto lavorando su saccaggi e anche su del chiaro in questo momento. Si alza il livello tecnico, fisico di tutti i componenti, anche banalmente con il rispetto per tutti ovviamente, ma anche degli staff tecnici, degli avversari, per cui ci saranno tutti dei cambiamenti che porteranno a grandi stimoli da parte mia in primis, ma ovviamente anche da parte dei ragazzi nel confrontarsi con situazioni che per alcuni di loro sono totalmente nuove.